Io direi non aggiungo nulla perché si è fatto anche tardi. Quello che posso dire è solamente una cosa, che Città Insieme, certo ha organizzato questo incontro per conoscere i candidati e i loro programmi, ma Città Insieme sarà soprattutto presente dopo, cioè quando il sindaco sarà eletto, quando ci sarà un aggiunto, un nuovo consiglio comunale, perché Città Insieme ha innanzitutto un suo compito, che è quello di controllare e verificare come si amministra Catania. Speriamo di farlo sempre bene, aiutateci anche voi col vostro contributo. Grazie e buonasera a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.